ciao a tutti ragazzi con questo video si inaugura una nuova serie del canale le recensioni oggi vi recensirò la macchina fotografica con cui scatto le mie fotografie e giro la maggior parte dei miei video si tratta della fujifilm fine pics hs 10 è una fotocamera bridge ovvero fa da ponte tra una compatta e una reflex può quindi essere usata sia in modo automatico che in maniera manuale pur non essendo una reflex si tratta comunque di un prodotto molto buono e affidabile è provvista di flash integrato e di display orientabile in più c'è anche il mirino elettronico che si attiva ogni qual volta ci si avvicina con l'occhio in quanto è dotato di sensore intelligente la qualità delle foto è alta e permette anche di fare foto panoramiche girando su se stessi di quasi 360 gradi la fine pics hs 10 vanta numerose funzionalità progettate per ampliare le opportunità di scatto e per riuscire a realizzare immagini sempre di alto livello alcune delle funzionalità che preferisco sono macro sport fuochi artificiali e notte c'è inoltre la possibilità di utilizzarla per registrare video in full hd a 60 fps e con audio stereo grazie al microfono integrato esattamente come faccio io e di girare filmati a risoluzione ridotta fino a 1000 frame al secondo e per finire la cosa più interessante di tutte ovvero il prezzo infatti questa fotocamera costa meno di 300 euro proprio per il suo prezzo relativamente basso io la consiglio soprattutto a chi ora usa una fotocamera compatta e vuol fare un salto di qualità senza però spendere troppi soldi nell'infobox qui sotto vi lascio il link alla pagina di amazon in cui trovate una descrizione completa delle caratteristiche e se volete la potrete anche acquistare grazie per aver guardato il video non dimenticare di lasciare un pollice in su di condividere il video e di iscriverti al canale se vuoi guardare altri miei video clicca sulle anteprime oppure va in descrizione dove trovi tutti i link per seguirmi sui social ciao ciao